Decima di campionato, al Santa Lucia si affrontano Florenzia San Gimignano e Tavagnacco. Comincia molto bene il Tavagnacco, qui c'è questa conclusione che termina alta sopra la traverso da parte di Caterina Ferin. Altra buona opportunità per la squadra di Luca Lugnan che capita sul destro di Valentina Puglisi. Fa fatica a fare gioco la squadra di Michele Ardito e allora la Florenzia San Gimignano deve affidarsi ad iniziative individuali come in questo caso con Isotta Nocchi ma è semplice la parata per Alessia Cappelletti. Situazione simile quando Lipman allarga sulla destra per Stefani Roche. Roche che converge al centro poi fa partire questa conclusione con il Mancino, anche qui non difficoltoso l'intervento per Cappelletti. Siamo in chiusura di frazione, conclusione col sinistro da parte di Ferin che però termina alta sopra la traversa della porta di Tampieri. Con le immagini andiamo nel secondo tempo, passano praticamente 35 secondi quando Candarana, questa opportunità ma è provvidenziale, decisiva in uscita bassa. Tampieri andiamo al minuto numero 48, guardate cosa combina Elisa Pogli anche con la complicità della difesa della Florenzia San Gimignano. Riesce a sfondare centralmente Pogli poi entra in area di rigore e con il destro in questo modo batte Amanda Tampieri. È il secondo gol in campionato per Elisa Pogli, attaccante classe 2000. È il vantaggio del Tampieri quando siamo appunto al 48esimo. Deve reagire la Florenza San Gimignano ma è temibilissimo il Tampieri quando riesce a ripartire. Altra grande occasione qui sul sinistro di Pogli respinge Tampieri, poi Pogli commette fallo su Giulia Bussi. Allora l'azione sfuma alta ripartenza del Tampieri che riesce ad avanzare molto velocemente. Poi il tocco al centro per Ferin ma è decisiva Emma Lipman in chiusura che riesce a sporcare la conclusione di Caterina Ferin. Al minuto numero 73, Megan Kelly va a contatto con Alessia Cappelletti per il direttore di gara per Mori di La Spezia. Calcio di rigore e appunto anche cartellino giallo per Cappelletti ma è dunque calcio di rigore per la Florenzia San Gimignano. Dal dischetto va Megan Kelly che non sbaglia col destro, settimo centro in campionato per Megan Kelly superata. Dunque Alessia Cappelletti che aveva intuito ma ha potuto fare poco sul destro di Kelly. Ottimo l'impatto sulla partita di Kelly, buonissimo l'impatto anche di Dupuy che qui fa partire questo destro. A metà tra un tiro ed un cross non ne approfitta né Martinovic né Kelly. Lì appostate sul secondo palo arriviamo dunque al minuto numero 94 quando Veretti calciano avanti questo pallone. Alla fine è Veronica Benedetti a mettere dentro in pieno recupero al 94esimo. C'è il gol partita del Tavagnacco, il primo gol in campionato per Veronica Benedetti. Incontenibile la gioia delle giocatrici del Tavagnacco finisce dunque così al Santa Lucia con la Florenzia San Gimignano che viene sconfitta dal Tavagnacco per 2 a 1. Grazie per la visione!